Ancora incendi dolosi a Lipari nella notte, le fiamme hanno distrutto un paio di ettari di macchia mediterranea. Sul fatto indagano i carabinieri. Una nuova notte di fuoco a Lipari, un incendio l'ennesimo in pochi giorni divampato nella località di Quattropani con le fiamme che si sono estese dalla zona di Chiesa Vecchia a Calvano impegnando per quasi sette ore le squadre dei vigili del fuoco, la forestale, i carabinieri e tanti volontari. Il fronte del fuoco si è esteso per quasi due ettari di macchia mediterranea interessando anche alcuni alberi secolari di ulivo. Anche stavolta la pista privilegiata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini è quella dell'incendio doloso. Già due giorni fa infatti la stessa zona di Quattropani, oltre che di Castellaro, Madoro, Monte Sant'Angelo e Varesana erano state interessate da fiamme altissime che alimentate dal vento si erano spinte sino all'ambira alcune abitazioni vicine. In quell'occasione è stata tanta la paura tra gli abitanti e i turisti e i vigili del fuoco hanno impiegato ore per lo spegnimento. Il sospetto anche in quell'occasione è che l'incendio sia stato doloso e per questi carabinieri stanno lavorando per capire se la matrice possa essere la stessa. Quel che è certo in questo momento è che in appena qualche giorno la borgata di Quattropani a Lipari ha subito quello che può considerarsi un vero e proprio disastro ecologico.